Oroscopo del mese. Ottobre 2017. Ariete. I single dovranno lanciarsi nelle nuove avventure scevari dal ricordo dell'ex. Novità e colpi di scena vi accompagneranno per tutto il mese. Chi si sente insoddisfatto di ciò che ha, deve avere il coraggio di dare una svolta alla propria vita sentimentale per evitare di vivere con il sorriso spento. Molti di voi potrebbero ritrovarsi ad avere a che fare con persone non completamente libere. Massima cautela. I disturbi legati allo stress potrebbero frenare le nuove conoscenze. Non portate il broncio. Prese superflue. Voltare pagina, stringere nuovi accordi commerciali, intraprendere collaborazioni è possibile. Ma. È consigliabile non lasciarsi sedurre dalla fretta che è spesso cattiva consigliera. È possibile rompere situazioni che non interessano più in forza di altre più in linea con i trend del momento. La mente è lucida e intraprendente. Continuate così. Toro. 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 GEMELLI. Amore, certe questioni amorose richiedono calma e pazienza per essere risolte. Chi è in cerca dellanima gemella, può approfittare del buon cielo di ottobre per lanciarsi in incontri piccanti e pronti a lasciare il segno. L'oroscopo annuncia che, durante questo mese, molti di voi arriveranno a delle scelte definitive, c'è chi chiuderà per sempre una storia, chi, invece, recupererà alla grande un rapporto e chi, infine, andrà a convivere o si sposerà. L'amore, a fine ottobre, è pronto a riservarvi bellissime sorprese. I cuori solitari dovranno districarsi tra colpi di fulmine ed incontri inattesi. Armonia e sintonia con Acquario e un divertente gemelli come voi, pronto a non annoiarsi mai. Lavoro, molti di voi si ritroveranno a cambiare ruoli o mansioni e questi vistosi cambiamenti, potrebbero alimentare ansia e agitazione in famiglia. L'opposizione di Saturno sta per lasciare il posto ad una nuova consapevolezza. Adesso sapete quali sono le strade veramente percorribili per vivere in serenità e quali, invece, bisogna abbandonare perché offrono prospettive di crescita e di guadagno veramente basse. Cancro. Fioccheranno proposte interessanti tutte da valutare. Ottobre è sinonimo di nuovo inizio. Migliorano i rapporti con i collaboratori con i quali è possibile intraprendere nuove strade. Molti accordi saranno ridiscussi. Non affrontate tutto da soli, affidatevi ad un legale per non commettere errori. Siate più fiduciosi nelle vostre capacità e nelle vostri doti, soprattutto durante i colloqui. Il lavoro vi toglie tempo e temete di trascurare gli affetti? Rivendendo gli appuntamenti presi in agenda, capirete come trovare il giusto compromesso tra famiglia e carriera. Leone. Amore, in coppia potrebbero nascere grattacapi e incomprensioni provocati da tensioni in ambito familiare o lavorativo. Trovate il tempo per riscoprire il vostro rapporto. L'inizio del mese, come annuncia l'oroscopo, troverai mati sotto il vostro segno, un po' confusi e distratti. Molte storie saranno messe in revisione. I single, invece, si sentiranno pronti per iniziare una nuova relazione. Una persona susciterà in voi grandi emozioni e potrebbe farvi innamorare a prima vista. Il rapporto con un ex può essere facilmente ricostruito gettandosi alle spalle i dissidi ed i diverbi passati. Affinità zodiacale appassionata e costruttiva con un irriverente sagittario. Lavoro, giove fa i capricci e non sono ammessi passi falsi o azzardi. Questo soprattutto per chi di voi è libero professionista. Attenti a non perdere proposte e chance lavorative importanti. Lavorate sodo ma senza buttar via troppi soldi. Gli investimenti fumosi e troppo dispendiosi di denaro ed energie. Non sono ammessi. Molti rapporti saranno da rivalutare, altri da chiudere. Ottobre. Virgine. Amore, qualcuno di voi ha fatto una scelta, ha abbandonato una strada fin troppo tortuosa. Ed ora si sente perso, smarrito. Ottobre inizierà un po sottotono e lumore sarà particolarmente ballerino. Poi? Spazio allamore, alle nuove conoscenze, ad incontri pronti ad imprimere un segno indelebile nel vostro cuore. Lavoro. Sia per chi è in procinto di rinnovare un contratto che per chi, invece, è pronto a rivestire un nuovo incarico. Sia per chi è in procura. 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 Un sogno d'amore. Sia per chi è in procura. Sia per chi è in procura. Giornate, ma per fortuna, l'oroscopo svela che il mese di ottobre avrà tra le sue peculiarità ottimismo ed allegria. Scorpione. Amore, sforzatevi a non dar peso agli sbalzi d'umore ed ai dinieghi del partner. La temperatura si mantiene bollente, accenderete le notti autunnali di emozioni pure ed intense. Avrete voglia di dedicarvi a nuovi progetti e per molti di voi, ottobre è il mese giusto per ridefinire l'assetto di un rapporto logorato dalle incompressioni. In arrivo attrazioni sincere e stuzzicanti dal punto di vista dell'eros. Sia per chi è in procura. 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 Capricorno. Amore, i rapporti forti, che hanno subito piccoli scossoni nei mesi addietro, hanno modo di rifiorire, come se fosse primavera, in autunno. Chi desidera convivere, sposarsi, cambiare casa può scegliere il mese di ottobre per farlo. Si prospetta un mese sfavillante sotto il profilo dell'amore. Con il partner, vivrete atmosfere uniche, romantiche. Sia per chi è in procura. Sia per chi è in procura. Ami occuperanno i vostri pensieri. La vostra mente è attiva, imprenditoriale. Non otterrete tutto e subito. Dovrete lottare con tutte le vostre forze per raggiungere le mete prefissate. In questo mese più che mai, loroscopo svela che è possibile risalire la china, uscire da situazioni che, nelle settimane scorse, vi hanno tenuto come ingabbiati. L'ambizione sarà fortissima. Siate lungimiranti e oculati risparmiatori. Le insicurezze si faranno sentire, ma non saranno d'intralcio al vostro cammino. Acquario. Coscienze, senza titubanze ed esitazioni. La sensualità aumenta a livello esponenziale e il vostro fascino è pronto a rendervi irresistibili. Un gemelli non aspetta altro che un cenno da parte vostra, è il partner ideale, quello con cui condividere tutto, dal letto alle aspirazioni professionali. Tenaci e ambiziosi, otterrete molto presto incarichi importanti e preziosi riconoscimenti. Giove consiglia di evitare gli azzardi dal punto di vista finanziario. Saturno vi sprona a concretizzare sogni e idee. Chi studia, dovrà sfoderare le proprie armi migliori per accelerare i tempi e conseguire subito il tanto agognato titolo. L'oroscopo svela che sono in arrivo buone notizie per chi ambisce ad avviare un'attività improprio. Pesci. Amore, le differenze caratteriali con il partner sembrano unirvi più che mai. Avete finalmente compreso che più che rappresentare un motivo di tensione, sono, invece, un motivo di intesa, un arricchimento personale. Una persona sta stuzzicando il vostro interesse da non poco tempo. Vi basterà uno sguardo per leggere ed interpretare le sue intenzioni. Lavoro. Lavoro. Non solo. Anche un inaspettato aumento di richieste e clientela che gioverà moltissimo al portafogli. L'oroscopo svela che i contrasti con soci o con collaboratori troveranno finalmente una felice risoluzione. C'è molto da riorganizzare e per molti di voi, è tempo di rivedere programmi ed obiettivi, soprattutto se non hanno dato, nei mesi addietro, i risultati sperati. Con Giove Amico, si prospetta un mese ricco di impegni e di colpi di fortuna. L'insoddisfazione e la voglia di migliorare vi renderanno un po' inquieti, ma costituiranno quella marcia in più per raggiungere il successo. La mente sarà propositiva, pullulerà di idee feconde e di progetti concreti e possibili. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.